We are terminus! Penso che dovrebbero venire fuori almeno 4 o anche di più.com anche l'episodio di Mafia. Ma ragazzi oggi andate a guardare il mio canale per favore verso tipo le 2, no per favore mi farebbe piacere perché possiamo dire farò un video per quanto riguarda l'organizzazione dei video. Quindi vi dirò a che ora ci saranno quelli, a che ora ci saranno quell'altro e in che giorno ci saranno quelle tipologie e tutte queste cose qua. Così sapete organizzarvi e dite ma come non fai più video su quello? E non fai più video su quello? No ragazzi non è che non li faccio ma non ho il tempo, non avrò più tanto tempo, ne farò abbastanza alla settimana, cerco di farne almeno 4. E vabbè ragazzi detto questo possiamo andare avanti. Ragazzi oggi sono qua per presentarvi due canali, what the fuck, due canali possiamo dire diversi ma due canali che veramente mi sono comunque piaciuti e ho deciso di sponsorizzare immediatamente. Per quanto riguarda le prossime sponsor le dovrò fare molto molto presto, inteso tra 1-2 giorni, 2 giorni, 3. Allora ragazzi ho notato che questa roba della sponsor vi interessa molto perché vedo che ci sono tantissime persone che mi scrivono Dai sponsorizzami, dai sponsorizzami ma ragazzi l'unica cosa che vi chiedo andate a guardarvi quei due cavolo di video per quanto riguarda la mia sponsor Perché non ha senso che mi dite sponsorizzami ma cosa devo fare? Cazzo ho fatto due video per dirvi cosa si deve fare E poi ragazzi non è che si deve fare qualcosa, voi dovete avere dei requisiti. Se mi mettete qualche like, qualche commento mi fate soltanto perché è piacere Perché comunque io mi aiuto e voi mi aiutate. E poi ragazzi se dovete farmi una sponsor è ancora meglio ragazzi perché è la cosa migliore penso Comunque ragazzi oggi sono qua per presentare due canali, un canale che WTF is really 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 good The Bomber Max che ha 3.275b che, beh, subscribe e non so cosa è venuto a fare da me dato che comunque lui ormai è famoso, è famosissimo E poi abbiamo StartGamer che avevo già trattato mi sembra nel mio canale Due canali comunque possiamo dire identici ma diversi perché comunque uno fa i big tagli, uno fa i big editing, uno fa i big money Mettiamolo in questa maniera, uno fa comunque contenuti molto simpatici e poi c'è anche uno che fa contenuti simpatici ma dovrebbe migliorare l'editing Per quanto riguarda Bomber Max, dato che io vi avevo detto ragazzi se avete un video, un video simpatico, un video per, possiamo dire, o far vedere il vostro canale Oppure non o meno per farvi conoscere avrei voluto molto volentieri, possiamo dire, mostrato questo video Ragazzi adesso mi sono iscritto al tuo canale quindi non ho più il suo video di presentazione Quindi cosa si fa? Cosa si fa ragazzi? Facciamo così molto molto Cosa ha fatto anche un video per l'anima? Cosa ha fatto questo sacco di merda? Anima best of... ah ha fatto quella roba da Bom, bellissimo, grande raga, ti stimo perché comunque io stimo anche l'anima Quindi ben fatto avrai il supporto per me morale per sempre Adesso mi sono disiscritto per il semplice motivo perché voglio vedere il tuo video di presentazione Dai per favore Comunque ragazzi spero che questi video di... come si chiama? Di sponsor Possano piacere e saranno sempre presenti nel mio canale Perché comunque è una roba che faccio per voi Comunque dopo ha anche un, possiamo dire, riscontro positivo anche sul mio canale E comunque ragazzi eccoci qua e guardiamoci il suo, la sua intro, il suo canale Poteva metterlo in qualche qualità maggiore? Sì, ovvio ragazzi Sono io stupido che non vado a guardarla in qualità 720 ma in 360 Ok ragazzi molto probabilmente da questo canale Da questo video non avrete capito niente ma ragazzi soltanto questo ho detto Soltanto questo è il mio canale che sponsorizzo più nella vita ragazzi What the fuck is really really good Perché mi ricordo uno dei miei vecchi video che avevo fatto E comunque ragazzi adesso cominciamo a parlare di questo canale Dove lui sarà un canale per quanto riguarda Comunque il gameplay challenge comunque Ciao mondo di youtube, vi presento, sono Max e il mio canale Sul mio canale tratto principalmente videogiochi come Minecraft, Call of Duty, X Eccetera Se sei pure Se sei anche tu pure appassionato di gaming Perché non ti iscrivi? Spero di strapparti qualche risata Lui a pensa come me quindi un like soltanto per questo Biella Oltre ai videogiochi faccio anche Fucktime dove rispondo a qualsiasi vostra domanda Adesso te ne farò io una di quelle più cattive Challenge, Sponsortime Eccetera Per poter essere sponsorizzati devi essere iscritto al mio canale Essere attivo ragazzi Lui fa quello che faccio io ragazzi Quindi lui è un canale che veramente sponsorizzo Non volentieri Proprio gliela faccio anche se non mi fa più niente in cambio Perché comunque è un canale che a me piace veramente molto Quindi un like Ad Bomber Max Bomber Qualcosa del genere E come potete vedere fa il pacco opening su Black Ops 2 Buon Natale Fuck giochi Top giochi dei mesi Cioè WTF is really good come canale E quindi il canale lo troverete in the description come sempre Poi ragazzi abbiamo Start Gamer Andiamo a vedere se le sue informazioni ci si è scritto qualcosa di interessante Salve a tutti Starter Io sono Starter Gamer Mi piace fare video Io faccio per divertimento e per passione Faccio tanti gameplay Vlog e challenge Spero che il mio canale vi piaccia bella Ok Boh poi c'è scritto i profili Boh ragazzi questo qua è un profilo molto meno Possiamo dire Ha detto meno cose Ma comunque alla fine sono le stesse sentite che cose Che comunque lo fa con passione Quindi un like anche a lui E ragazzi andiamo a provvedere se ha Qualche video di presentazione Perché se non ha un video di presentazione Non posso dire niente perché Cioè non posso parlare niente Comunque lui usa la GoPro come potete vedere Se andiamo su video Abbiamo Limbo Top 10 personaggi Videogiochi preferiti Ok Cosa personale simpatica FIFA E che palle Boh non so cosa sia In segreto Vlog day Ok Tanti Più che altro vedo che ha molti molti vlog Per quanto riguarda GTA Voglio soltanto vedere La qualità Bene La qualità è ottima Quindi non ho niente da dire ragazzi Posso vedere se c'hai qualche cavolo di Non mi interessa la nuova casa anche a te Fai come gli altri youtuber Se io voglio soltanto vedere se hai un video di presentazione E con la serve alle persone che sono nel mio canale A capire se iscriversi o meno al tuo canale Mentre probabilmente dovremo andare al primo video di presentazione Quello Proprio il first video Che comunque la qualità sarà Minore Quindi ragazzi restate nell'ottica Che comunque è arrivato a quella qualità là E al massimo all'inizio Aveva Una qualità minore Ma gli stessi propositi ragazzi Comunque vi ricordo Per essere sponsorizzati Bastate che avete 10 video E Vabbè Dopo lo parliamo Comunque Eccomi in Stargamer Ha molte cose da dirvi Beh Guardiamo questo Salve a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Da Stargamer Questo è un nuovo video Badatissime cose da dirvi E una di queste Che mi sono rata al polso Per cui se non l'avete sentito Fino ad oggi E Lo dobbiamo vedere Che mi è rata al punto di marzo E quindi Non capirò video Che mi sono rata al punto di marzo Però caricherò anche Questi Che mi sono rata al punto di marzo Mi sa che abbiamo sbagliato video Vabbè Ragazzi Vi do qualche canale Che a me piace Si sono quasi una colazione E Quindi ragazzi Infine Se vi piace il mio video Per quanto riguarda La sponsor Saranno sempre presenti Bastata che mi sono stilata anche a me Quindi Link di questi canalini Bellissimi In description Vedete Mi piace un commento Mettete qua sotto ragazzi Un commento Scrivendomi Se posso Sponsorizzami Ditemi anche nel commento Cosa fate E ditemi Quanti video avete Se avete 10 video Perché se avete meno video Si faccio la sponsor Ma su Facebook Ragazzi Non perdetevi il video delle 14 Dove parlerò un pochino Della organizzazione dei video Ciao 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 Ciao